Dopo l'infrasettimanale di mercoledì la Serie D torna in capo per il turno numero 27 con un impegno tutt'altro che semplice per la vice capolista notaresco impegnata sul terreno di gioco del Matese, una delle formazioni più in palla in questo momento del campionato. La vittoria dell'Aragona di Vasto è l'ultima di una striscia positiva che parte, niente meno, che dalla gara di andata della Savini nella quale l'undici di Epifani si impose per 3-1. Da quel momento in poi Urbano e i suoi non hanno sbagliato quasi nulla, solo pareggi e successi, una coppia d'attacco che ha fatto male anche mercoledì. Per il notaresco invece una ripresa post-Pasqua molto positiva, due vittorie in altri tanti match. Il tecnico rosso-blu dovrà fare a meno ovviamente di Bianciardi e anche di Colombatti e Marcelli mentre sono da valutare le condizioni di Banegas. Il capo cannoniere della squadra non è al meglio anche se il giovane, Kevin Buonavoglia, mercoledì nel derby del Vomano ha mostrato di avere ottimi numeri. La sfida è difficilissima perché è una squadra che viene in salute, una squadra che viene a tantissimi risultati utili consecutivi. Si giocherà in un campo in erba sintetica, nel campo piccolo e loro sicuramente dalla loro parte hanno l'entusiasmo che stanno facendo grandi cose. Noi dobbiamo prepararla bene, dobbiamo recuperare bene lo sforzo di oggi e andarci a giocare questa partita con tutte le forze che abbiamo. La capolista Campobasso invece ospita il nuovo Romagnoli Lavastese scottata dall'1-2 interno dell'infrasettimanale ma dopo tanti giorni 45 di stop causa contagi. Anche D'Addario ha fatto i complimenti ai suoi ma adesso ci vorrà qualcosa in più perché i molisani sono un vero e proprio rullo compressore. In più dopo il rinvio del match col Vasto Girardi hanno avuto anche una settimana intera a disposizione per preparare la partita. Il Campobasso è come il Matese, uguale, con una differenza che prima in classifico. Quando sono arrivato ho cominciato col Campobasso, oggi ho cominciato col Matese e domani il Campobasso. Il Campobasso è forte, lo sappiamo tutti quanti, stiamo a discutere del Campobasso. C'è organico, c'è società, c'è punti, c'è idee di gioco. Che vogliamo mettere ancora? Chi deve uscire dal momento niente affatto positivo è la Castelnuovo, a riduce da un punto in quattro gare che mercoledì ha dovuto cedere il passo proprio al notaresco. L'arrivo davanti di Santi Rocco dà un'opportunità ulteriore a Di Fabio di alternare gli uomini con il ragazzo che in dia ha già giocato in Maglia Vezzano ma che adesso dovrà aiutare i suoi compagni a ritrovare la via della rete. Il gol infatti manca addirittura dal decimo del secondo tempo della gara persa con il Castelfidardo lo scorso 21 marzo. Fanno dunque 395 minuti a secco. Il problema è che dall'altra parte ci sarà una Cinzia Albalonga che con i neroverdi battaglia per un posto playoff. Con fagioli assente manca la presenza di un attaccante che fa salire la squadra, che fa peso lì davanti. Sicuramente per noi Alessandro è un giocatore importante, poi dopo che è andato via anche sbarbati. Adesso abbiamo dei ragazzi molto giovani che abbiamo preso dal campionato di eccellenza che stiamo valutando. Domenica scorsa ha giocato fidanza, oggi è entrato Cellucci, quindi dobbiamo dargli il tempo di crescere. Speriamo nel frattempo di recuperare il più presto possibile Alessandro perché sicuramente Fagioli è un giocatore importante per noi. Per il Pineto invece impegno interno contro i rieti con qualche acciacco soprattutto dietro. Il pareggio di Genzano ha confermato i progressi della formazione biancazzurra. In dubbio Bertolo e Pepe potrebbe essere spostato Paoli nella linea difensiva con Salvatore e Mesisca davanti Minnozzi e l'uomo in più. Ma adesso servono anche le fiammate degli attaccanti che Marco Pomante ha in rosa per cominciare una risalità che ha visto il Pineto piazzare tre risultati utili consecutivi che saranno l'Infa per proseguire. Il Giulianova ha avuto una settimana di lavoro standard dopo il rinvio del match contro l'Olimpia agnonese. E con due partite ancora da recuperare va a fiuggi a caccia di tre punti che sarebbero vitali ma anche una vendetta del match dello scorso anno che finì con una debacle. In più un eventuale risultato positivo permetterebbe già allorosi di accorciare proprio sui laziali che hanno cinque lunghezze di vantaggio sui ragazzi di Bitetto ma con molte meno partite giocate quindi con la possibilità di dilatare ulteriormente la distanza. Ecco perché quella di domani al capo Iprati sarà una sfida che il Giulianova deve provare a vincere a tutti i costi. Grazie. Grazie.